Il telefono continua a squillare senza sosta, ma le prenotazioni per la seduta vaccinale straordinaria prevista per domenica 23 gennaio al punto vaccinale di San Marco di Gubbio, destinata alla sola somministrazione della terza dose anti-Covid, si sono chiuse con due giorni di anticipo. Testimonianza questa del positivo riscontro da parte dei cittadini dell'iniziativa voluta dalla Regione e realizzata in collaborazione con i medici di famiglia Aft Gubbio, il distretto Alto Chiascio US Lumbria 1 e la Croce Rossa Italiana Comitato Eugubino. 300 residenti del comprensorio potranno dunque ricevere dalle ore 9 alle 19 la dose anti-Covid la prossima domenica in base all'orario fornito in fase di prenotazione. Le adesioni sono sette possibili grazie al contributo dei volontari della Croce Rossa Italiana che in meno di 48 ore hanno accolto le richieste di 300 persone. È un'iniziativa che è stata pensata dal nostro distretto sanitario che ci ha chiesto collaborazione proprio per dare l'opportunità a quei cittadini che in questi ultimi giorni hanno proprio faticato a trovare un appuntamento in centri vaccinali che fossero anche vicini alle proprie residenze. Quindi noi siamo operativi da ieri, il telefono continua a squillare pur avendo completato gli appuntamenti veramente da stamattina. I nostri volontari sono stati qui in servizio a pieno ritmo. Ci scusiamo magari con chi non è riuscito a prendere la linea ma veramente erano super intasate. Noi abbiamo fatto quello che potevamo e diamo l'appuntamento a chi ha avuto la fortuna di prendere la linea domenica 23. Manderemo dei messaggi di promemoria per l'appuntamento che hanno già ricevuto telefonicamente e consigliamo, come abbiamo già detto al telefono, di arrivare puntuali innanzitutto perché comunque parliamo di 300 prenotazioni che sono tante, quindi per aiutare al massimo la logistica e sempre in quest'ottica consigliamo di scaricare la modulistica e portarla già compilata perché significa ottimizzare i tempi.